Hobs, il diavolo mente, Dio non può assolutamente mentire. Voglio essere sintetico e vi incollo alcuni brani di vecchi video per rispondere a quei quattro ignavi che postano frasi simili a questa. Ti sei contraddetto, prima hai usato la Bibbia per dimostrare che la terra è piana e adesso rinneghi la Bibbia. 1 luglio 2018 Pertanto, cari predicatori delle Bibbie, se dovete studiare la Bibbia, studiatela in lingua originale, ovvero in ebraico, e nemmeno in greco, perché il greco è già una traduzione dall'ebraico. Se proprio dovete usare il greco, fatelo solo per i pezzi mancanti della lingua ebraica. Questa premessa perché è arrivato il momento che smettiate di riportare pezzi di Bibbia che è stata e viene tradotta sempre come meglio confà. C'è il mio piede sta su terra piana. Ora prendete pure la Bibbia e se l'avete aperta richiudetela con cura e iniziate ad ascoltare il vostro Dio, quello che è dentro di voi, non nelle scritture che di sacro non hanno niente, servono solo a raccogliere soldi per gli interessi delle congregazioni, che nulla hanno a che fare con la parte spirituale, la parte di noi, quella che ci hanno mutilato per evitare che ci mettiamo in contatto con la parte interiore, quella che regala la vita, quella vita che stiamo gettando via inseguendo sogni che non possono mai essere raggiunti, illudendo le creature fin dalla prima infanzia. 15 febbraio 2019 Quanto leggo in questo video sono le scritture della vostra Bibbia, non della mia Bibbia. Per dimostrare la terra piana non ho bisogno della Bibbia. Il mio scopo, quando la cito, è per richiamare il credente che nei suoi testi si parla di terra piana, ma continua a credere nel globo. Ok, cari inetti che equivocate su qualsiasi cosa dica? Approfitto per portarvi alla luce quanto segue nel tentativo di ri-accendere la lucina fioca e scardini il vostro credo per far sì che vi faccia comprendere quanto sono inique le diciture del vostro libro. E non fate l'errore di interpretarle, dando significati completamente contrari a quello che c'è scritto. Il libro è stato scritto da altri uomini, non da Dio. Il creatore incide il suo volere nella vostra anima, nel vostro spirito, non nelle cose materiali manipolate per soggiogarvi. Giovanni 8,44 parlando del diavolo Quando dice il falso parla del suo perché è menzoniero e padre della menzogna. Tito 1,2 Dio che non può mentire 2 Tessalonicesi 2,11 E per questo Dio manderà loro efficacia di errore perché credano alla menzogna. 1 Re 22,23 E 2 Cronache 18,22 Perciò ecco, l'Eterno ha posto uno spirito di menzogna in bocca a tutti questi tuoi profeti, Ma l'Eterno pronuncia shagura contro di te. Non sono profeta di nessuno, ascolto il mio cuore. E se non lo sapete, la parola cuore in alcune Bibbie è stata modificata o sostituita. Pensateci gente, a quello che leggete, a quello che studiate.